E adesso venite con me, andiamo a provare la C59 Dischi su strada. Ricordatevi, mettete il casco e allacciatelo bene. Ricordatevi, mettete il casco e allacciati. E' un po' che non usavo più una bici che mi veniva dietro così. Scattante, veloce, confortevole e poi con questo cambio elettronico sei in salita sotto sforzo. Vuoi togliere il 39 e vai giù, lo togli. Cosa più difficile, dove di solito salta giù la catena. Metto adesso il 53 sotto sforzo e guardate, impressionante. Riguardate l'operazione. In un attimo sotto sforzo, questo col cambio manuale non sarebbe possibile. Quando mi alzo in piedi e sforzo sotto la bicicletta, sui pedali, sento proprio la bici che mi segue. Le ruote ad alto profilo sono scorrevoli e rigide e fanno corpo unico con il telaio. Lo sterzo e il manubrio non flettano. Senti proprio di scaricare tutta la forza delle braccia. Rende veramente bene. Adesso però metto il 39. Adesso andiamo a fare uno scatto in salita per vedere come reagisce la bici. Metto il 53 e proviamo uno scatto da fermo dove il telaio prende una grande sollecitazione.